Musica Bella a tutti ragazzi, qui Caneluvo Come al solito ringrazio tutti voi che mi seguite E spero di esservi utile anche nei vostri match Per questo anche ho deciso di aprire una nuova rubrica Consigliatami dall'amico Seven Shot Che consiste nel Ogni puntata farò vedere Tre jungler Vari spessoni Quindi sopra giù la clip sarà di 3-4 minuti Di come gankare con quei champion Di una strategia per gankare Mid, top e bot Ok Ok Allora bella a tutti ragazzi